Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come aggiungere un collegamento Instagram su TikTok. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come aggiungere un collegamento Instagram su TikTok. Ora aggiungiamo il collegamento Instagram su TikTok e ti mostrerò come farlo. La prima cosa è assicurarti di aver scaricato l'applicazione TikTok. Quindi aprila semplicemente. Quindi ti indirizza all'home page di TikTok. Ora qui ragazzi, come potete vedere il profilo nell'angelo in basso a destra, basta toccarlo. Quindi ora quello che farai qui è toccare modifica profilo come puoi vedere sotto il profilo. Quindi ti indirizza a queste impostazioni. Così come puoi vedere in basso ora c'è un'opzione di Instagram per aggiungere un collegamento su Instagram, basta semplicemente toccarlo. Quindi qui ragazzi per aggiungere il collegamento Instagram su TikTok basta semplicemente accedere al proprio account Instagram e alla password qui. Successivamente, come potete vedere qui ragazzi, toccate semplicemente consenti per consentire a TikTok di aggiungere il vostro collegamento Instagram. Successivamente, come puoi vedere, il collegamento di Instagram è già stato aggiunto a TikTok. Grazie per aver guardato.